Ancora i settori giovanili di Manfredonia, attenzionati dalla Serie A. Questa volta è toccata all'Accademia del Calcio di Manfredonia, di avere in visita il responsabile dell'area sud della SPAL, il signor Antonio Amodio. Sono qui per consolidare l'affiliazione con questa società di Manfredonia. Conoscendo Nicola, abbiamo fatto subito il rapporto. Siccome noi abbiamo preso anche un giocatore qualche mese fa tramite il Manfredonia, Salvemini, stiamo cercando di mettere un po' di loghi per la Puglia, per stringere bene il territorio, per far sì che i migliori talenti pugliesi vengano su da noi. Come si svolge un po' il tuo lavoro? Giri tanto, immaginiamo, della parte all'altra dell'Italia meridionale. Ma poi come fai? Ti arrivano segnalazioni per andare a vedere dei ragazzi in particolare? Sì, oggigiorno come sapete ci sono 100 procuratori, 100 osservatori, quindi sui giocatori bravi ci si arriva, anche se vengono prima le altre società come Atalanta, Milan, Juve. Però noi, visto che stiamo lavorando bene da qualche anno, cerchiamo anche noi di fare il nostro. Stavo giusto vedendo una partita di primavera fra Juventus e Bologna, per fortuna non c'erano tanti stranieri, per fortuna insomma, non c'erano tanti stranieri nelle due squadre. Com'è la situazione stranieri e italiani nei settori giovanili, soprattutto questi di alto livello? Allora io penso una cosa, che oggigiorno ci sono gli stranieri nel settore giovanile perché sono delle scommesse e costano molto meno degli italiani. Noi siamo, da quest'estate abbiamo anche noi preso qualche straniero nel settore giovanile che stiamo aspettando, però sai, visto che noi siamo una società arrivata da poco in serie A, non abbiamo la forza economica di prendere un giovane forte che ne so da una società di serie B o di serie C, perché oggigiorno i presidenti, sai, cercano di mantenersi con i giovani, però sai, con gli stranieri prende una scommessa, va a finire che ti va bene e con poco c'è un giocatore in casa. Questa è la principale, secondo me, situazione. Che cosa valutate di più di un ragazzo a 15 anni, 16 anni? Il temperamento, la tecnica, la voglia di emergere? Cosa che, ovviamente se c'ha tutte le caratteristiche non c'è da scegliere, però, dico, se dovessi, dovendo scegliere tra queste, che cosa privilegiate? Io penso che la cosa più importante sia la fame, la fame di emergere. Oggigiorno, sai, i giocatori con tutte queste scuole calcio, sai, i ragazzi si preparano molto, però io vedo che la differenza, anche come dicevamo prima con gli stranieri, è proprio quella là, la fame. Oggigiorno i ragazzi italiani si concentrano su altre cose, e non sul gioco di strada, queste cose qua che prima erano molto importanti, no? Vedevo anche nella mia generazione, giocavamo per strada, facevamo i tornei, c'erano molti talenti e non c'erano questi procuratori e questi osservatori che ci sono oggi. Quindi penso che la cosa più importante sia la tenacia, la cattiveria di arrivare, la fame. Poi dopo, sai, ci vuole struttura fisica, oggigiorno ci vuole forza per arrivare in Serie A, questi livelli qua, però io penso che il giocatore senza testa non va da nessuna parte. Oggigiorno la cosa importante è avere la testa sulle spalle, avere tenacia e cattiveria. Poi il resto, sai, si può migliorare, anche se poi vengono tutte le altre qualità. Se no, per arrivare nei nostri settori giovanili è difficile, non è facile. Tu sei abbastanza giovane per valutarlo, ma sono più quelli che prendete o quelli che perdete? Eh, perdere è una parola brutta, ma di solito facciamo salire molti ragazzi, sai, su segnalazione, qualcuno che non possiamo andare a vedere direttamente, però sono pochi quelli che poi rimangono a Ferrara e speriamo che poi dopo arriveranno, almeno con noi in prima squadra per far sì che almeno il lavoro che facciamo noi non sia nullo. Il movimento di Ferrara è legato al salto in Serie A o c'è un'impostazione che viene più da dietro negli anni passati? No, io posso dire che è da due anni che lavoro con loro, quindi già da quando si faceva la Lega Pro, mi ricordo, sai, abbiamo sempre scelto dei ragazzi di giù, avevamo già il convitto, già l'organizzazione perfetta, c'è gente che lavora da anni dietro le quinte, però adesso dai, facendo la Serie A è più facile anche da arrivare sui ragazzi. Anche mi ricordo due anni fa non conoscivo neanche il nome della società per cui lavoravo, adesso, sai, siamo conosciuti, stiamo lavorando bene, poi la Spalla è una società storica, quindi stiamo facendo un buon lavoro. Noi qui a Manfredonia siamo convinti di avere, insomma, qualità particolari. Tu che impressione ti sei fatto, conoscendo l'Accademia e conoscendo più o meno il movimento di ragazzi che c'è qui a Manfredonia? No, qui sicuramente c'è un bacino ampio di ragazzi, ci sono ragazzi di talento. Io posso dire che Salvemini, secondo me, è uno dei talenti più forti che c'era al Sud Italia, quindi siamo stati bravi a prenderlo e spero che arriva ad alti livelli, sai, anche se, come ho detto prima, c'è anche bisogno della tenacia, della cattivezza, tutte queste qualità. Però io penso che al Sud, veramente, soprattutto in Puglia, in queste zone qua, c'è molto talento, sai, molti ragazzi interessanti da seguire. Bene, grazie e buon lavoro.